buongiorno grande campione gli ultimi saranno i primi luis vincenzo suggerisce il castello del mondo ti ha spezzato le gambe ieri lui è vero a cerci di 20 km 20 km tu sei comandante supremo buongiorno ora calentare andiamo a calentare la strada la strada si lascia 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 tutto bene la strada la strada la strada la strada il gruppo si è diviso la strada 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.